L'ultima sfida, quella dei ballottaggi, a Verona, Iesolo, Feltre e Tieni, cittadini, sono richiamati alle urne. Seggi aperti dalle 7 alle 23, subito dopo via allo spoglio. E anche stavolta c'è una grande incognita a pesare su questo secondo turno il rischio astensionismo. Dopo la bassa affluenza della prima tornata, il timore che si ripetono le percentuali di 15 giorni fa, occhi puntati soprattutto sulla piazza di Verona. E naturalmente, come accade sempre in occasione dei grandi appuntamenti, Antena 3 sarà presente per aggiornarvi in tempo reale sugli esiti delle urne. Dalle 21.15 la maratona in diretta con una puntata speciale di Ring per seguire istante dopo istante il voto nelle quattro piazze. Collegamenti con gli inviati da Verona, Tieni, Iesolo e Feltre, ospiti in studio per i commenti con il vice direttore Ferdinando Avarino. Dall'attesa per la chiusura delle urne fino allo spoglio che rivelerà i nomi dei nuovi sindaci. Una serata dunque da non perdere, appuntamento dalle 21.15 naturalmente su Antena 3.